Siamo con Mr. Caserta al termine della partita. Dove ha vinto la gara oggi il Perugia? Adesso può sembrare tutto facile, però sapevamo le difficoltà e quindi abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. Il campo sicuramente non ci ha aiutato come non ci aiuta spesso perché è un campo così pesante la qualità della nostra squadra magari ne risenta un po'. Però i ragazzi sono stati molto bravi a partire subito forte, era quello che chiedo sempre, l'approccio alla partita secondo me è la cosa più importante. Hanno fatto tutto quello che dovevano fare per cercare di portare a casa una vittoria nel derby che è sempre una partita particolare. Quindi sono contento di questo perché cercavo e volevo questo da parte della mia squadra perché queste sono le partite a mio avviso più difficili. Perché sono derby, perché sono partite che guardando la classifica sembra come ho detto prima sembra facile ma non è così. Le insiede ci sono state e abbiamo sofferto anche in alcune frangenti della gara ma credo che sia anche normale. Elia può ricoprire più ruoli ma l'impressione è che avanzato renda di più. Non sono d'accordo, Elia perché viene sempre valutato, sempre perché fa gol o perché ha fatto gol o perché fa delle prestazioni. Elia, a mio avviso, mi ha tre anni quindi penso di conoscerlo anche bene. Elia se gioca la spalla alla porta trova qualche difficoltà, si attacca bene lo spazio. Ho deciso di metterlo lì davanti perché gli ho chiesto di attaccare lo spazio. Elia lo sa fare molto bene ma credo che partendo anche qualche metro più dietro possa dare, come abbiamo visto anche da terzino, possa dare una spinta maggiore, non perché gli altri non siano bravi, in questo caso Cancellotti, ma hanno delle caratteristiche diversi. Il Cancellotti è molto più bravo magari a difendere e nella nostra metà campo è più bravo. Elia ha una spinta maggiore, però oggi anche per necessità ho deciso di farlo giocare più avanti. È un ruolo che ha ricoperto con me spesso, ha ricoperto più ruoli. E secondo me è un giocatore, soprattutto in questa categoria, che quando sta bene ti alza il tasso tecnico. Un successo questo di oggi che cancella l'opaca prova di Fano. Ma io non sono d'accordo neanche su questo. Non è stata un'opaca prova del Fano perché, ripeto, viene sempre valutato il risultato finale. La squadra ha fatto, a mio avviso, una partita importante dove evidentemente e sicuramente non ha costruito tante palle e gol come oggi. Però la prova è stata una prova importante. Se andiamo a vedere poi il risultato finale, è normale che uno pensi che oggi la squadra ha fatto una partita diversa. Ma non è così. Noi siamo stati meno cattivi sotto porta a Fano. Oggi siamo stati cattivi, nelle occasioni create le abbiamo sfruttate al meglio. Però la prova anche a Fano c'è stata. Vorrei vincere tutte le partite, ma no. Ma non è così, non è sempre così e non è facile. Abbiamo visto anche i risultati delle altre squadre. È un campionato difficile dove tutte le squadre, e ripeto, quando giocano contro il Perugia danno qualcosa di più. E quando troviamo delle squadre che si chiudono e ti aspettano, fa fatica. Se non sei bravo come oggi a sbloccarla dopo 15 minuti e fare subito il 2-0, anche oggi sarebbe stata una partita molto difficile e complicata. Adesso arriva una trasferta particolarmente tosta contro il Cesena. Sì, è una squadra che arriva da due sconfitte, però sappiamo le qualità che ha il Cesena, sappiamo le difficoltà. L'abbiamo vista all'andata, l'ho vista anche nelle ultime partite. Sta facendo un campionato importante. Noi dobbiamo essere bravi, innanzitutto a recuperare energie, perché oggi abbiamo speso tantissimo per via del campo, per bravura dell'avversario. E quindi dobbiamo cercare di recuperare un po' di energie e da domani pensare alla prossima partita. Una vittoria da dedicare a Leonardo Cenci. Sì, l'avevo detto in pre-partita. Ci tenevamo a dedicargli la vittoria. Sono contento perché possiamo dedicare questa bella vittoria nel derby, partita importante. Sono sicuro perché ho visto tanti video, non ho avuto il piacere di conoscere, ma ho visto tanti video di Leo. Sono convinto, anzi stra-convinto, che da lassù sarà sorridendo come ha sempre fatto quando stava qui con noi. Quindi la dedichiamo con veramente, con tanto affetto e tanta voglia, questa vittoria a lui. Vittoria, vittoria, vittoria!